Amici e amiche di Trieste e FWG Caffè, abbiamo chiesto ai giovani frequentatori della Pineta di Barcola se secondo loro manca una discoteca a Trieste. Ascoltiamo le loro risposte. Assolutamente sì. Non sono una persona molto festaiola, però ogni tanto anche io voglio di far festa e pensare che lo stesso uno del gruppo si deve sempre sacrificare per poter andare a Lignano, a Sistiana, che è vicina, però lo stesso non si può fare magari con tranquillità e uno lo stesso deve stare tutta la sera senza bere, fare magari anche tardi e quindi diventa magari un po' un contro rispetto magari ad averla qua in città. No, secondo me no. Mancano tante cose a Trieste. Per me Trieste non è valorizzata tanto quanto può. Sicuramente manca, a me non piace particolarmente, però sì, in città non c'è molto da fare, ecco. Secondo me sì. Sì. Sì, non c'è tanta roba per i giovani. Ad esempio ieri sera ero in città e non c'era niente. Grazie.